Buonasera. Secondo questo nuovo studio, che viene dal Qatar ed è stato pubblicato sul New England Journal of Medicine, coloro che hanno già sofferto di Covid e che quindi hanno un'immunità naturale sono molto ben protetti contro le infezioni future. Infatti, questo studio ha scoperto che tra le persone che avevano già contratto il Covid, solo lo 0,4% l'ha contratto di nuovo. E tra queste reinfezioni, oltre il 99% dei casi sono stati lievi. Nel frattempo, per quanto riguarda la nuova variante del virus che è apparsa in Sudafrica, si è scoperto che la ragione per cui è stata chiamata Omicron è stata in parte dovuta al fatto che l'OMS non voleva offendere la Cina, perché, basandosi sull'alfabeto greco, si sarebbe dovuta chiamare variante Xi, che suona come il cognome del leader del PCC Xi Jinping. E infine, secondo il capo dell'Associazione Medica del Sudafrica, che è stato uno dei primi medici a scoprire effettivamente questa nuova variante, i sintomi che si manifestano sono insoliti ma piuttosto lievi. Esaminiamo insieme queste storie. Questo è Facts Matter e io sono Roman di Epoch Times. E ora cominciamo la discussione di oggi parlando dell'immunità naturale. Secondo uno studio pubblicato di recente dal Regno del Qatar, le persone che si sono riprese da un'infezione del covid hanno pochissimi rischi di contrarre nuovamente la malattia. Ciò significa che, secondo questo studio, un individuo che ha già sofferto per l'infezione ha un rischio molto basso di essere infettato. Ora naturalmente, se state seguendo la storia dell'immunità naturale da un po', probabilmente lo sapete già. Perché in totale ci sono già stati più di cento studi che sostengono che l'immunità naturale fornisce una protezione simile o superiore rispetto ai vaccini. Tuttavia, ciò che rende questo studio del Qatar così speciale è la portata. Poiché il Qatar è un paese relativamente piccolo, oltre che essere un regno, e quindi i ricercatori sono stati in grado di raccogliere dati completi su quasi tutti i cittadini del loro paese. Infatti, lo studio afferma che hanno analizzato i casi della variante Theta. Usando i database nazionali e federati che hanno catturato tutti i dati relativi alla SARS-CoV-2 dall'inizio della pandemia, abbiamo studiato il rischio di malattia grave, che porta all'ospedalizzazione per cure calibrate, di malattia critica, che porta all'ospedalizzazione in terapia intensiva, e di malattia mortale causata da reinfezioni, rispetto alle infezioni primarie nel territorio nazionale che comprende 353.326 persone infettate. E così questi ricercatori del Qatar hanno usato i loro database nazionali per esaminare le cartelle cliniche di quasi tutti gli abitanti del paese. E più precisamente ci sono state 353.326 persone che hanno contratto il Covid tra il 28 febbraio 2020 e il 28 aprile 2021. Ciò significa che a un certo punto, in quel periodo di 14 mesi, questi individui devono essere stati infettati. Poi i ricercatori hanno rimosso circa 87.500 persone dal loro gruppo di studio e le hanno escluse perché avevano fatto il vaccino. Infatti i ricercatori volevano studiare solo le persone che avevano esclusivamente l'immunità naturale. Poi hanno seguito le registrazioni delle persone rimanenti per vedere se si sono reinfettate. E quello che hanno scoperto è che l'immunità naturale forniva una protezione molto forte. In particolare, su quasi 300.000 persone, solo 1304 di loro sono state reinfettate, cioè circa lo 0,4%. Quindi solo lo 0,4% delle persone che avevano un'immunità naturale e che non hanno mai fatto il vaccino sono state reinfettate. Poi, quando hanno cercato i casi gravi tra questi, cioè i casi di Covid che erano abbastanza gravi da richiedere un'ospedalizzazione, i ricercatori hanno trovato solo 4 casi. Solo 4 casi di reinfezione categorizzati come gravi. Per riassumere, questo significa che delle persone che hanno preso il Covid una seconda volta, 1.300 sono stati casi lievi e solo 4 erano gravi. I ricercatori hanno anche notato che non ci sono stati casi di morte tra i reinfettati. In generale, perciò, le reinfezioni sono risultate complessivamente e senza dubbio meno gravi. Ecco, infatti, cosa dice lo studio. Le reinfezioni avevano il 90% di probabilità in meno di procurare un'ospedalizzazione o la morte rispetto alle infezioni primarie. Quattro reinfezioni erano abbastanza gravi da portare all'ospedalizzazione per cure più attente. Nessuna ha portato all'ospedalizzazione in un'unità di terapia intensiva e nessuna si è conclusa con la morte. Le reinfezioni erano rare ed erano generalmente lievi, forse a causa del sistema immunitario innescato dopo l'infezione primaria. E poi ancora, ecco come uno dei ricercatori principali di questo studio ha descritto i loro risultati. Di conseguenza, per una persona che ha già avuto un'infezione primaria, il rischio di avere una reinfezione grave è solo circa dell'1% rispetto al rischio di una persona precedentemente non infetta di avere una grave infezione primaria. Ora, mentre questo studio non chiarisce esattamente quanto dura la protezione, secondo i dati reali, il tempo medio tra la prima malattia e la reinfezione è stato di circa 9 mesi. Questo ha portato i ricercatori a dire che stanno studiando se l'immunità naturale al covid rispecchia la nostra immunità naturale al raffreddore comune. Ecco cosa hanno scritto. Bisogna determinare se tale protezione contro la malattia grave e alla reinfezione duri per un periodo più lungo. Analogamente all'immunità che si sviluppa contro altri coronavirus stagionali, come il comune raffreddore, che suscitano un'immunità a breve termine contro la reinfezione lieve, ma un'immunità a lungo termine contro la malattia più grave. Se questo fosse il caso della SARS-CoV-2, il virus, o almeno le varianti studiate finora, potrebbe adottare un modello di infezione più benigno quando diventa endemico. Ora, di nuovo, questo non è il primo studio che suggerisce che l'immunità naturale non solo esiste, ma è anche molto forte. Ci sono stati più di 100 studi di questo tipo fino ad oggi. Tuttavia, come ho detto prima, questo è uno degli studi più grandi e si aggiunge al crescente corpo di prove che circondano l'immunità naturale. Se volete leggere questo studio per conto vostro, vi metto i link nella versione PDF sotto nella descrizione del video, come sempre. Ora, immaginate per un momento che durante il fine settimana voi foste un produttore di notizie televisive. E davanti a voi ci siano cinque possibili storie su cui fare concentrare il pubblico del vostro canale. Quale di queste cinque storie scegliereste? A. L'inizio del caso di traffico di bambini di Gislaine Maxwell. B. L'inizio del processo di Jussie Smollett per il suo presunto crimine d'odio. C. Il saccheggio organizzato di grandi magazzini al dettaglio che sta avvenendo in tutti gli Stati Uniti. D. Le conseguenze a Wakasha dopo la storia del tizio che ha guidato pericolosamente nel mezzo di una parata di Natale. E. La nuova variante del virus in Sudafrica, che potrebbe o non potrebbe essere più pericolosa di quella che si sta diffondendo ora. E se avete scelto l'opzione E, beh, siete della maggioranza. Perché in qualche modo, sembra che quasi tutte le principali reti di notizie americane abbiano deciso, in sincronia, di concentrarsi sull'ultimo punto. La nuova variante del virus. Trovo sempre sorprendente come funzionano i media. Ma ora passiamo un po' in rassegna ciò che sappiamo di questa nuova variante, a partire dal suo nome, che è la variante Omicron. Ora potreste guardare quel nome e dire, che strano, ma da dove vengono fuori questi nomi? Sono a caso? È una bella domanda. E la risposta è abbastanza semplice. C'è una convenzione di denominazione per queste diverse varianti di COVID che utilizza l'alfabeto greco. E così la variante iniziale, che uscì da Wuhan, fu chiamata semplicemente è la variante Alpha, che è la prima lettera dell'alfabeto greco. Poi ci sono state un paio di piccole varianti, le varianti Beta e Gamma, che non hanno fatto molto clamore, ma poi abbiamo avuto la variante Delta, che è venuta fuori dall'India e ovviamente ha fatto un gran colpo. E se ne parla ancora oggi. Poi, dopo la variante Delta, gli scienziati sono stati in grado di identificare altre otto varianti di COVID, a ciascuna delle quali è stata data una diversa lettera greca in sequenza. E così c'è stata la variante Epsilon, la variante Zeta, la variante Eta, la variante Theta, la variante Iota, la variante K, la variante Lambda e la variante Mu. Ora, qui è dove le cose si fanno interessanti, perché molto probabilmente tanti di voi conoscono l'alfabeto greco. E sanno che dopo la lettera Mu ci sono la lettera Nu pronunciata New e la lettera Shi. Allora, perché l'OMS ha saltato queste due lettere greche e ha chiamato la variante sudafricana appena scoperta Omicron, che è la lettera subito dopo la Xi? Bene, li abbiamo contattati, ed ecco cosa ci ha risposto un portavoce dell'OMS. Due lettere sono state saltate, New e Xi, perché New è troppo facilmente confondibile con Nuovo e Xi non è stato usato perché ha un cognome comune e le migliori pratiche dell'OMS per la denominazione di nuove malattie suggeriscono di evitare di causare offesa a qualsiasi gruppo culturale, sociale, nazionale, regionale, professionale o etnico. Quindi, permettetemi di ripetere. Per non creare confusione, l'OMS ha saltato la lettera New che suona come New in inglese per non confondere le persone con la parola nuova. E questo è in qualche modo ragionevole. Ma poi l'OMS ha saltato la lettera Xi per non offendere nessuna persona di nome o cognome Xi. Ora mi chiedo, chi potrebbe aver avuto paura di offendere? Si tratta per caso di qualcuno di famoso che ha il cognome Xi? Esatto, è Xi Jinping, il presidente del Partito Comunista cinese, lo stesso partito che ha coperto la diffusione del virus quando ha iniziato a diffondersi a Wuhan, e che secondo alcune stime è stato così responsabile della pandemia che ha coinvolto tutto il mondo. Tuttavia, a causa della decisione dell'OMS, siamo stati inondati da notizie sulla variante Omicron, piuttosto che della variante Xi. Ora, abbastanza naturalmente, questa decisione dell'OMS ha provocato una certa reazione. Per esempio, il senatore Ted Cruz ha detto questo. Se l'OMS è così spaventata dal Partito Comunista cinese, come si può affidare che lo metta in guardia la prossima volta che cercherà di coprire una catastrofica pandemia globale? E nello stesso modo, il senatore Tom Cotton dell'Arkansas ha detto questo. Sono più preoccupati dei sentimenti del Partito Comunista cinese che della salute pubblica. Il presidente Biden non avrebbe mai dovuto riprendere senza una riforma a finanziare questa marionetta corrotta del PCC. Ora, per quanto riguarda la nuova variante in sé, in questo momento, nonostante la copertura mediatica non-stop, non è esattamente chiaro se presenta un rischio maggiore rispetto alle altre varianti. Infatti, secondo una dichiarazione del direttore dell'Associazione Medica del Sudafrica, i sintomi causati dalla variante Omicron sono insoliti, ma nel complesso sono piuttosto lievi. Ecco, infatti, quello che ha detto in una dichiarazione proprio qualche giorno fa. Quello che stiamo vedendo clinicamente in Sudafrica, e ricordate che sono nell'epicentro del ciclone, è estremamente lieve. Per noi sono casi lievi. Ho parlato con altri miei colleghi e danno lo stesso quadro. Questo è tutto per oggi. Ci vediamo alla prossima puntata. Sono Roman di Epoch Times. Restate informati e restate liberi. Grazie.